L'Inter vince facile! Non ho voglia neanche di fare un video dove sfotto perché ha vinto talmente facile che non c'è nulla da sfottere. Verona che non si è mai affacciato dalle parti di Andanovic, l'Inter che ha preso il possesso del gioco, l'Inter che ha preso in mano la partita subito, la chiude e va a vincere. Come vi dicevo non ho voglia di stare lì a fare, disfare, gufare, parlare perché tanto l'Inter ha vinto facile. Questo è un messaggio per i ragazzi, questo è un messaggio per i nostri. Domani fate il vostro, mi raccomando, domani bisogna vincere a tutti i costi. Questi ci stanno mettendo il pepe al culo. Non guardiamo le altre però un pensierino ce lo dobbiamo fare visto che l'Inter ha vinto. Mi raccomando questo è un messaggio per i ragazzi. Forza, forza, forza perché non voglio più errori. Mi raccomando.